yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme a vergence finalmente dopo due anni siamo riusciti a fare un altro contenuto insieme dove andremo a fare una tier list sulle waifu trap tricks però prima di scegliere dove posizionare la carta andremo a vedere come divorano le loro prede così per rendere tutto un po più speziato detto come divorano le loro prede e come divorano il mio cat avete sentito come è partito subito in quarta ma va bene prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jackstor il mio sponsor per la vendita di prodotto coreano e se volete un piccolo sconto e supportarmi trovate il link qua sotto in descrizione insieme a tutte le altre info inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon dragon ball one piece forza will e digimon trovate il link del instagram con sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto che se c'è qualcosa di interessante se lo può parlare detto questo procediamo con la tier list niente car trader oggi anche car trader in descrizione se volete supportarmi è anche per quello le info sempre in descrizione allora o mio po ciao ragazzi io sono vergence di givin tonight e oggi sono qui a dare le views a cappello perché mi ha chiesto di fare praticamente la remaster ed della live in sotto forma di video cosa vuol dire tier list delle trafics ve l'ha già spiegato lui e niente io sarò la parte più istinti primordiali lui sarà la parte più razione al fm di friendly non credo non credo succederà questo diciamo che questo video era già stato registrato insieme ad ale me da ezio il problema è che faceva schifo perché avevo fatto un copione di merda e quindi lo stiamo riregistrando quindi colpa tua non colpa di ala che è venuta una merda no colpa mia sei la mia seconda scelta mi spiace dovevo dirtelo e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè capita quando non si è capace allora devo prendere il views da yale comunque partiamo da dionea dionea riprende la venera chiappa mosche i lunghi piccioli delle foglie posseggono alle loro estremità una trappola munita di denti morbidi le trappole sono formate da due lembi dentro ognuno dei quali si hanno tre piccoli peli che fanno da sensore quando questi sensori vengono toccati o vibrano le trappole si chiudono di scatto la pianta grazie a un sofisticato sistema di memoria riesce a distinguere il primo tocco rimanendo fermi in attesa del secondo invece impartisce l'ordine di serrare le trappole ogni 30 40 secondi circa la memoria viene resettata facendo ripartire il ciclo questo sistema è usato dalle piante per evitare di chiudere le trappole quando non abbiano ancora riconosciuto la preda una chiusura selettiva per risparmiare energia se la dionea rivela il movimento della preda inizia la fase digestiva altrimenti si riaprirà lentamente dopo qualche ora diciamo che questa ti digerisce vivo e è quella è la classica pianta carnivora che si con l'odore fa avvicinare gli insetti poi si chiude quella che si chiude in automatico ci sono tanti video su youtube molto vabbè di sta roba ti dico subito che ho visto un porno iniziare così però con l'attacco dei giganti mi ricorda quando ho ficato il cazzo nella pianta no allora abbiamo cinque opzioni la prima è mi farei divorare e mi sembra giusto la seconda sono furri per le piante la terza mi ci sono segato una volta sola la quarta si salva perché comunque una waifu e la quinta proprio no allora per quanto riguarda dionea dal punto di vista della lore ne abbiamo già parlato dal punto di vista del disegno adesso abbiamo questa ragazzina dentro una pianta dentro una pianta ovviamente perché la pianta ricordiamo che è la cosa che crea la bambina su un cuscino di quello che sembra acqua rugiada qualcosa del genere insomma e dei teschi dietro ovviamente perché negli altri attrapolatrici non mancano mai devo dire che questa carta inizialmente dalle prime volte nelle quali ho giocato trappolatrice che è stato nel 2019 2018 mi ha sempre fatto sesso no l'ho sempre in realtà abbastanza esclusa l'ho sempre lasciata in fondo perché non mi piaceva più di tanto l'ho rivalutata molto devo dire perché common si vede molto meglio l'artwork rispetto a prima e devo dire che già la sua posizione a 90 è un ottimo plus allora ti dico già il fatto che tu mi dici non ne sono sicuro partiamo proprio male per me è un mi farei divorare sotto tutti i punti di vista per me è la trap tricks più bella di tutte e me la non posso dirlo perché andrà in galera però per me se lì ci fosse qualcosa sopra il mi farei divorare ci sarebbe lei per me non è così perché la mia trap tricks preferita è un'altra però l'ho rivalutata molto sono furri per le piante direi che è una tier list adatta è una tier adatta per questa per questa carta insomma mi piace veramente molto è una delle migliori sicuramente vediamo dopo che secondo me ti farò cambiare idea passiamo alla seconda mirmeleo che anche lei è una topa abbastanza grossa anche se all'inizio io pensavo fosse maschio anch'io è una topa io pensavo fosse maschio parliamo di mirmeleo mirmeleo riprende i mirmaleontidi generalmente noti come formicaleoni la loro larva scava molto presto una buca conica nella sabbia e si apposta lasciando uscire dalla buca solo la testa e le mascelle attendendo con pazienza quando una formica o un altro insetto cade nella buca non riesce a uscirne a causa dell'instabilità e dell'inclinazione delle pareti e attira l'attenzione della larva facendo crollare verso il fondo numerosi granelli di sabbia lo stesso formicaleone lancia della sabbia alla sua preda rendendo ancora più instabile la sua posizione nell'imbuto e facilitando la caduta verso la bocca una volta chiuse le mandibole sulla preda la larva la trascina sotto la sabbia dove le inietta del liquido paralizzante digestivo che renderà liquido all'interno della preda così che il formicaleone possa cibarsi semplicemente succhiandola ti giuro ho i brividi è bello il mondo degli insetti ma sono terribili fortuna che sono piccoli allora è inquietantissimo poi succhia la preda ma dio mio è peggio delle delle mantidi e poi ci parleremo dopo delle mantidi letteralmente immediatamente proprio descrizione terribile grazie per avermi procurato incubi perché non bastava il fatto che secondo me tuttora io al momento sono estremamente terrorizzato dal fatto che il mermedeo sembrasse un maschio nonostante sia una trappolatrice per me è un proprio no ancora c'è proprio lo sparo lì proprio no punto allora a livello di descrizione dell'insetto per me è un mi fare divorare soprattutto perché io ovviamente avendo scritto il copione so quali sono i prossimi a livello umano proprio no mi dispiace non sono fan delle tipe con i capelli corti no ma non è quello è proprio il fatto che sembra un maschio c'è sembra un maschio c'è proprio maschio mi dà di maschio lui mi dà di trappa appunto traflex ma parlando di mantidi religiose abbiamo mantis allora mantis ovviamente cita le mantidi le mantidi sono per lo più predatori di imboscate ma si trovano alcune specie terrestre che inseguono attivamente la loro preda le femmine a volte praticano il cannibalismo sessuale quindi te lo stacca a morsi quindi non mi farei mai fare un pompino da mantis ma non ti staccano a morsi il cazzo ti staccano a morsi la testa dipende cosa stai facendo le mantidi si mangiano la testa del proprio partner mentre scopano quindi continuiamo mangiando i loro compagni dopo l'accoppiamento le mantidi sono predatori generalisti di artropodi e si nutrono solo di prede vive alla loro portata i mimetizzano rimangono fermi aspettando che la preda si avvicini oppure la inseguono con movimenti lenti e furtivi le mantidi più grandi a volte mangiano individui più piccoli della loro stessa specie così come piccoli vertebrati come lucertole rane pesci e in particolare piccoli uccelli grazie a dio sono piccole comunque la maggior parte delle mantidi insegue prede allettanti se si avvicinano abbastanza e andranno oltre quando sono particolarmente affamate l'amantide è tipo satana degli insetti è qualcosa di incredibile dal punto di vista di artwork in sede della carta secondo me è un secchissimo sono fuori per le piante no è bellissima no è proprio cioè non me lei piace tantissimo a me non me la puoi paragonare a dionea sotto nessun punto di vista assolutamente no al massimo cioè io l'avrei messo su un si salva ti concedo il mi ci sono segato una volta sola no ma io più di una volta mi ci sono segato allora facciamo facciamo mi ci sono segato una volta sola va bene ok così anche se non è vero a me piace tantissimo mantis a te fa cacare quindi poi di per sé gli insetti mantidi religiosi a me piacciono quindi cioè per quanto sia facciano schifo perché il mondo degli insetti fa schifo però è un altro paio di maniche allora è terribilmente affascinante e qua lo stiamo vedendo fermi ragazzi vi ricordo una cosa se volete supportare questo canale vi ricordo che vi basta solamente mettere mi piace iscrivervi e commentare lo so questa cosa a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme e mi permette di fare arrivare questi video a tutta la community mi piacerebbe arrivare a 5k prima di fine anno e arrivarci sarebbe una cosa senza senso perché a breve poi superiamo anche vergence grazie mille a chi lo farà e chi non lo fa e non è ancora iscritto è un po figlio di puttana perché io giustamente devo stare fermo con gli iscritti comunque come prossimo abbiamo atrax qua descrizione molto minimal cita atrax un genere di ragno appartenente alla famiglia atracidei io non ho la fobia dei ragni neanche io quindi ci sta dal punto di vista del dell'insetto in sé i ragni li trovo fighissimi sarebbe un mi fari divorare dal punto di vista degli artwork stesso identico problema di mirmeleo solo che lei l'ho scambiata per meno uomo inoltre c'è da dire una cosa che nell'artwork di rafflesia fa un sesso impressionante questa carta guarda lo volevo dire io la cosa di rafflesia infatti mi hai rubato la battuta grazie per me è sempre stata un no adesso se consideriamo l'artwork di rafflesia è un mi farei divorare addirittura troppo bene ma ma l'artwork non è quello di rafflesia l'artwork è il suo allora dionea deve sta sopra non può stare allora lo stesso liado di raffaele no secondo me atrax non va sopra al si salva perché ho comunque una waifu dai no è molto più bella facciamo se consideriamo solo l'artwork della carta va bene però dobbiamo considerare l'artwork della carta tanto poi sappiamo che rafflesia finirà sopra sopra solo perché è un mix se c'era fletta no ma rafflesia ha presa pure la sola c'era tipo prossima prossima all'omerus è un genere neotropicale di piccole formiche della sottofamiglia mirmichinae quindi potrebbe essere suppongo parente di mirmeleo per me capelli rossi plus senza senso non è da mi fare divorare premetto che dionea per me è sopra all'omerus e è un sono furri per le piante per me è un mi ci sono segato una volta sola dietro dietro di lei ci stanno mantis e sera che la portano su come artwork lei è una bimba niente male ma preferisco quelle che le stanno dietro quindi mi ci sono segato una volta sola per me no almeno sopra mantis non l'accetto sotto mantis vabbè poi è una tier list poi la classifica interna alla tier ve la pensate voi andiamo alla prossima arachno t0 basta capiamo un secondo arachnocampa riprende arachnocampa luminosa comunemente noto come lucciola neozelandese è una specie di moscerino dei funghi endemico della nuova zelanda usano il loro bagliore verde bluastro per attirare le loro prede e poi probabilmente le divorano per me sembra veramente più bambina di sera io proprio no è spaventosa lei è la mini lady gaga di yukioh è per il capelli a caschetto platino cioè è bellissima è proprio bella bimba 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 ma tanto bimba cioè questa è tipo se dici sì va bene finisci in galera prima ancora di averci provato secondo me è un sono fuori per le piante cioè è troppo bella arachnocampa allora facciamo così mettiamola sul proprio no per non rischiare denunce comunque non vi fate confondere dal nome lo stavo mettendo attenzione aspetta aspetta vorrei dire solo una cosa sono piante potrebbero essere anche piante millenarie come minimo potrebbero avere due milioni di anni come personaggi anime vero quindi ma oltre questo è una ragazzina che sembra piccola sono fuori per le piante cioè io non ci sto manco a pensare io te lo abbasto un pochino perché mi sembra un po troppo va bene e non vi fate trarre l'inganno perché effettivamente lei rappresenta un moscerino e non un ragno io ho pensato che arachno si riconucesse ad un ragno e invece era un moscerino non so se i moscerini sono sempre la famiglia degli arachnidi no 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 però il ragno al prossimo ok abbiamo atipus atipus riprende il ragno atipus il ragno resta in agguato sul fondo del tubo non ho capito che tubo e quando una preda passa sulle sulla parte esterna le vibrazioni della tela setosa allertano il ragno che scatta e lo trafigge per poi rompere la sua stessa tela portandosi la preda nella parte interna e cibarsene è terribile io ho un flash di tipo qualcuno che arriva con una lancia che trafigge la preda e se lo porta via però non è secondo me a livello di birmeleo assolutamente è bella la natura ragazzi a volte penso che noi siamo delle persone terribili ma quando vedi come si cibano delle altre creature sul pianeta dici ma forse forse potevamo fare ancora di peggio e non l'abbiamo fatto apprezzo molto il fatto che lei abbia sei ciocche di capelli nell'artwork è molto bella come cosa perché è un riferimento alle zampe di ragni ne hanno e se ne hanno otto i ragni la sono sei non so se questa specie di ragno ne ha sei o ne ha otto castana occhi azzurri mezza scoperta si sono segato mi ci sono segato io te l'abbasso addirittura sotto attrax che è esagerato attrax diamo poi guarda le le sue gambe le gambe di atipus sotto ci stanno gli occhietti simpatici del ragnetto dai su solo perché mi hai tirato fuori sta cosa che non me ne ero accorto te la alzo allora passiamo a cularia che già solo il nome mi sa di perverso penso sempre a un culo ogni volta che dico il suo nome cularia riprende utricularia sandersoni è una pianta carnivora appartenente alla famiglia lentibulariceae la parte carnivora si trova sotto la superficie mediante le quali minuscole vescicole sui fusti sotterranei catturano i microorganismi che abitano il sottosuolo saturo la parte visibile della pianta non è carnivora allora dal punto di vista della descrizione non mi lascia nulla di che in realtà dal punto di vista dell'artwork alle cazzo di orecchie da coniglio mi ci sono segato una volta allora sono d'accordo il problema è che secondo me capelli bianchi plus il problema secondo me è che non ha una bella acconciatura però accetto il mi sono segato voglio dire quando te la sbatti non è che stai troppo considerato acconciato la prossima è gen di genlisea allora riprende genlisea è un genere di pianta carnivora semi acquatica appartenente alla famiglia lentibulariceae quindi è della stessa famiglia di cularia genlisea è in grado di catturare in modo non selettivo tutti i microrganismi ed afici interstiziali abbastanza piccoli da poter penetrare all'interno delle aperture del risofo giusto santo risofillo terribile immaginare queste cose ti giuro ma microrganismi che cazzo ce ne frega giustamente allora analisi del contenuto della vescicola hanno mostrato la presenza di organismi come nematodi anelli di acari crostacei e colleboli ma anche organismi unicellulari come cianobatteri batteri non fotosintetici protozoi e una marea di altre robe che non leggerò le prede entrano all'interno del risofillo attraverso una serie di piccole aperture disposte in modo eliquidale lungo le braccia della trappola una volta entrate nel risofillo le prede non ne possono più uscire a causa della presenza di una serie di anelli di tricomi detentivi localizzati sull'epidermine interna dei bracci eliquidali e del suo collo tubulare costringendole ad un movimento unidirezionale verso la vescicola in cui esse verranno digerite dalla pianta è abberrante come cosa sì ma sono microrganismi che cazzo ce ne frega sì però c'è l'idea che alcuni alcuni esseri viventi possono fare questa fine va bene parti tu con con cd se allora per me è come c'è a parte che l'artwork è molto simile a quello di quali quindi per me lo possiamo mettere anche nello stesso livello a un bel vestito come me forse più carina di quali allora per me lei è più bella di quali a l'unico problema che ho con lei sono i piedi che sono storti brutti da vedere non mi piacciono proprio però in generale comunque vabbè poi io non sono un fan dei piedi mi fanno schifo in generale quindi diciamo che non è difficile che dia un punto a favore per contribuire a quella cosa però capelli bianchi occhi verdi mi piace tantissimo come combinazione sembra una delle più maggiore in tutta onestà guarda ti dico secondo me potresti apprezzare mio fratello perché ha degli occhi verdi e probabilmente invecchierà gli si sbiancheranno i capelli capelli bianchi occhi verdi femminili no era per capire sembrava molto generica la cosa secondo me stesso stesso livello di cularia aspetta ho visto una roba che non mi piace aspetta 1 2 secondo me c'era un problema della tier list allora andiamo avanti abbiamo olutea no 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 tu non hai capito niente tu non hai capito niente ti posso dire va bene mettere in mi farei divorare dionea ma mi devi salire mantis o arachnocampa no arachnocampa è troppo pericoloso di città arachnocampa non ce la faccio per me dovrebbe stare più in basso è proprio forte di me allora olutea olutea riprende ortaea vernechi è una specie di lievito della famiglia delle toratspariaceae è un lievito nero che viene studiato per la sua notevole allotolleranza non c'è nulla di spaventoso non c'è nulla di schifoso dal punto di vista dell'artwork è molto particolare mi fa che lei non è un mostro è una trappola che diventa un mostro va bene e boh secondo me mi ci sono segato almeno una volta è una bella carta mi piace io metterei pure sono furi per le piante ma va bene ci può stare ci può stare salirò sono furi per le piante mi piace tantissimo quello ti ha come altro basta mettere mantis indietro abbiamo nefentes allora io direi nefentes prima di stare a leggere descrizione la sbattiamo già in fondo secondo me proprio no è poco brutta nefentes ma sai cosa mi ricorda mi ricorda le ragazze che soffrono di quella malattia che non mangiano di anoressia madonna mia è bruttissima per carità tutte le ragazze che soffrono di anoressia siete bellissime ma guarite per piacere no al fatto che non è una bella traptrix allenata con un bel fisico è una traptrix in cui si vedono le ossa è brutti è terribile lei è veramente terribile prosegui nella descrizione allora nefentes riprende nefentes è un genere di pianta carnivora unico della famiglia monotipica delle nefentaceae le piante consistono di uno stello lungo fino a 15 metri potrei aver sbagliato potrebbero essere centimetri di cui un centimetro di diametro lungo lo stelo sono posizionate foglie alternate la cui nervatura centrale si estende oltre l'apice formando un viticcio il viticcio termina con una trappola una sacca munita di opericolo chiamato ascidio gli insetti attirati dal nettare secrete o dalle ghiandole comparse sull'ascido cadono all'interno dove vengono digerite da un liquido contenente pepsina e assimilati dalle piante quando l'ascido è ancora in via di formazione l'opercolo è chiuso e si apre solo quando la trappola è matura contrariamente a una credenza comune l'opercolo non ha capacità di movimento non si chiude quindi ogni volta che l'ascido intrappola un insetto esso contribuisce ad attirare la preda ed evita che la pioggia riempie la trappola compromettendo il funzionamento e appesantendo la pianta quindi cosa ne pensi è terribile pure la descrizione quanti metri sono detto che sta scritto 15 metri ma non credo sia possibile in realtà potrebbe tranquillamente essere possibile perché va in fondo nel nel terreno è tranquillamente fattibile 15 metri di trappola gesù santo cos'è un intestino srotolato messo per vertical verticalmente nel terreno è terribile come cosa credo di aver scritto male comunque nel caso ce lo farete sapere qua sotto nei commenti infatti vabbè next in guicola è un nostro sotto tutti i punti di vista nel frantes mi dispiace in guicola mi farei divorare sotto dionea però va bene abbiamo la tua abbiamo la mia vabbè non metto bocca in guicola riprende in guicola nel senso dentro di lei metto è un genere di piante carnivore appartenente alla famiglia lentiburialicee quindi tutti della stessa famiglia le piante di questo genere usano foglie collose e ghiandolari per attirare catturare uccidere e digerire gli insetti per supplire alla carenza di nutrimenti minerali presenti nel loro habitat per catturare e digerire le prede le foglie usano due ghiandole specializzate sparse lungo la superficie fogliare di solito solo sulla superficie superiore questo aspetto bagnato può attirare gli insetti in cerca di acqua le goccioline contengono pochi enzimi e servono principalmente a intrappolare gli insetti preciso che l'aspetto bagnato non attira soltanto gli insetti ma anche a me vediamo che fine fai le goccioline contengono pochi enzimi e servono principalmente ad intrappolare gli insetti quindi verresti intrappolato il contatto con la preda stimola il peduncolo ghiandolare a rilasciare ulteriore mucillaggine da speciali cellule poste alla base del peduncolo gli insetti cominceranno a lottare per liberarsi attivando più ghiandole e si ricopriranno sempre più di mucillaggine poi probabilmente verranno digeriti lo sappiamo già ti faresti divorare è una sì ma assolutamente cioè senza nemmeno pensarci in realtà sono io quando l'ho vista presentata questa carta ho detto ho dato come definizione di questa carta la bimba che sta buona poi è arrivata da noi in tcg e sono genuinamente sorpreso del fatto che non l'abbiano minimamente censurata non l'hanno toccata pingwikula e hanno fatto bene perché l'unico che può toccarla sono io passiamo a pudica e qua c'è non lo so pudica cita nefentes pudica è una pianta carnivora tropica sembra che catturi prevalentemente le formiche così come la maggior parte delle specie studiate dal genere nefentes nefentes pudica è la prima specie descritta di pianta carnivora a utilizzare trappola caduta specificatamente nell'ambiente sotterraneo secondo me è la sorella di pingwikula perché si assomigliano troppo la sorellina minore lì potrebbe essere effettivamente mia figlia che non uscirà mai perché chi figura di chi c'era una ragazza ed ecco il motivo a me non piace in realtà lei a me sì però è come arachnocampa sembra troppo piccola arachnocampa proprio non mi piace va bene mi ha messo arachnocampa la io ti faccio mettere quella lì a livello di arachnocampa va bene prossima io ti direi prima di pure qui prima di andare nella descrizione mi farei divorare e poi andiamo nella descrizione penso che sia condiviso solo perché è una mucchiata e nella mucchiata ci sono delle trappie particolari ci stanno tutte le più becce è proprio bella qui c'è dionea che dorme è bellissima allora se c'è dionea va subito su mi faccio divorare la prima perché c'è tutte però così è vincere facile dai rafflesia allora rafflesia ha una storia molto particolare cita un genere di piante parassite della famiglia rafflesi ceae diffuso nelle foreste pluviali del sud asiatico la pianta del genere la fresia non presenta tronco foglie ovvero radici vivono in un rapporto di parassitismo quindi praticamente io l'ho vista così sta insieme alle altre perché è comunque parassita delle sue compagne diciamo che qua nel pratico nella realtà sono parassite di alberi col tronco però in questa situazione diciamo è differente qui ci sta come ragionamento ripeto qui c'è sempre l'anello debole che è nefantes perché qui in quest'altro che mirmedeo è proprio bella però mirmedeo atrax se consideriamo quelle stanno all'allosso in alto mirmedeo atrax e dionia in questo disegno sono proprio belle nefantes è brutta da ogni angolo proprio come la metti e la metti è brutta e niente ci sta è una bella carta poi il fatto che si basi sulla rafflesia è molto bella come cosa poi conoscendo anche la versione di prerapianta mi piace molto come ispirazione in che senso la versione di prerapianta esiste prerapianta chimera flessia davvero molte le versioni pianta delle trappolatrici sono condivise con le prerapianta perché hanno utilizzato la stessa base più o meno e c'è la chimera flessia di prerapianta appunto che è molto bella come disegno secondo me devo assolutamente andarlo a vedere dopo passiamo avanti con la penultima che è aspetta se sei d'accordo con me io farei prima vesiculo prima in proprio no vesiculo è una pianta carnivora che vegeta sia nelle zone temperate che in quelle tropicale momento 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 ti faccio presente perché come l'hai pronunciato è abbastanza sbagliato perché in realtà il nome inglese è vesiculo vesiculo non so per quale motivo sia stato tradotto così in italiano però tecnicamente non c'è nessuna vescica sul culo c'è una visi sul culo bene sai che questa cosa non me ne frega assolutamente niente vabbè è vera per puntualizzare perfetto la pianta cattura piccoli invertebrati acquatici utilizzando trappole simili a quelle della venera a chiappamosche le trappole sono disposte a vortice attorno a un fusto centrale liberatamente fluttuante le trappole vere e proprie sono costituite da due lobby che si ripiegano a formare una trappola a scatto e si trova sott'acqua queste trappole attorcigliate in modo che l'apertura della trappola siano rivolte verso l'esterno sono l'interno di un sottile rivestimento di peli del grilletto che si chiudono di scatto in risposta al contatto e l'intrappolano la chiusura di questa trappolatrice richiede 10-20 millisecondi vabbè comunque secondo me si salva solo perché è mobile no secondo me nemmeno quello cioè non è brutta quanto ne fente non è brutta quanto mirmelee o non mi piace però si vabbè sta a livello di Atrax ci può stare dai sotto Atrax si una sessatia di Atrax ci può stare sembra una vecchia piuttosto e ultima sera io dico che per sera uscirai proprio senza nemmeno pensarci due secondi comunque seracitra drosera è un genere di pianta carnivora della famiglia drosaraceae sono accomunate dalla presenza di foglie ricoperte di tentacoli vivacemente colorati che presenta gocce di una sostanza collosa secreta ad apposite ghiandole presenti nelle foglie in grado di attirare gli insetti e farli rimanere intrappolati in un secondo tempo di secernere succhi simili alla tripsina grazie ai quali digeriscono gli insetti per favorire quest'ultima fase la foglia nella quale è intrappolato l'insetto tende ad arricciarsi avvolgendo in un arco di tempo che può variare arrivando anche a durare 14 ore in che senso 14 ore se non muori rimani lì eh testa di cazzo ma è tortura questa non è caccia è tortura tu non scoperesti per 14 ore fino a morire non penso che sia paragonabile allo scopare io comunque uscirei anche nonostante tutta la descrizione l'artwork è fatto magistralmente quello penso sia il trap il giardino trappolaturi insomma il trap trip garden quindi che a me piace molto come carta quindi secondo me sono fuori per le piante oppure mi farei divorare mi farei divorare dipende dove lo vuoi mettere tu per me se è writer è tipo la terza trappolatrice più bella guarda ti dico io ce l'ho secret ed è una carta senza senso è bellissima sta carta common secret ultra non fa differenza ha un artwork bellissimo bene facciamo un piccolo recap tu sei d'accordo con tutto? abbastanza io metterei più sopra no vabbè ma è troppo rischio io metterei sopra arachno ma arachno campa ma è abbastanza rischioso perché comunque bimba bimba abbiamo messo sera come mi farei divorare eh lo faccio notare però ma c'ha 4 mila anni eh l'ha scritto konami nel suo ultimo libro sulle guide delle loro e cosa ha scritto cosa ha scritto konami? sera 4 mila anni arachno campa eh 17 e mezzo aspetta sera 4 mila anni 4 mila anni arachno campa 17 e mezzo 17 e mezzo ne deve fare 18 a breve quindi io nel dubbi per arachno campa mi dissocio va bene dai va bene così allora va bene così anche se da giocatore skystriker sono abituato al finire in prigione detto questo detto questo ragazzi il video finisce qua ringrazio ovviamente virgins per essere stato qui in mia compagnia aver fatto questa tier lista e se ne volete un'altra dedicata a qualche altro archetipo con le waifu ovviamente si andrà a vedere la loro e si farà la tier lista fatemelo sapere qua sotto con un commento e scrivete ovviamente quale archetipo volete detto questo ragazzi vi rinnovo l'invito al like e al negozio di jackstore e anche car trade detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti vi ricordo di passare anche dal mio canale vabbè che tanto tutti i tuoi iscritti sono iscritti già a miei quindi vabbè dai passate comunque da gaming tonight detto questo ciao ragazzi ciao a tutti